benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto abbiamo gridato no quando anna carienina è morta e sì quando gandalf è resuscitato abbiamo odiato rossella oara a pagina 10 e a pagina 300 ci siamo accorti di esserci innamorati di lei eravamo con harry a hogwarts mentre aspettava il risponso del cappello parlante e con charlie e willy nella fabbrica di cioccolato abbiamo vissuto tante avventure e tante ancora ne vivremo sono alice basso e insieme andremo alla scoperta dei più bei libri per grandi e piccoli consigliatissimi è il podcast d'intesa san paolo on air che raccoglie i consigli di lettura dei libri indipendenti grandi classici autori affermati e premiati ma anche novità editoriali o spunti per chi cerca qualcosa di originale per stupire i nostri lettori di ogni età noi ne parliamo oggi ma come ci ricordano sempre i nostri amici librai i libri non hanno scadenza e quindi i nostri consigli sono sempre validi a natale come in piena estate o in qualunque altro momento dell'anno per sognare non bisogna chiudere gli occhi bisogna leggere michelle foucault buongiorno a tutti e bentornati su consigliatissimi bene oggi ci dedichiamo a una nostra vecchia passione a un nostro vecchio amore un argomento al quale abbiamo già dedicato tutta una serie di puntate ma che non passa mai di moda e non smette mai di avere il nostro più assoluto interesse i libri per i più piccini per quei piccoli lettori o futuri tali che ancora hanno un sacco di porte di carta da aprire su mondi meravigliosissimi allora iniziamo immediatamente a sentire che cosa ci propongono i nostri amici librai di bologna il libro che consigliamo come libreria e i cuscini magicis di eugenios trivizas un autore greco e il libro è stato pubblicato in italia da camelo zampa da non troppo tempo anche se non possiamo considerarlo una novità mentre in grecia è un classico un libro che è uscito da almeno 30 anni che viene stampato e ristampato in continuazione è un libro per ragazzi come si diciamo la tutta la produzione di camelo zampa questa bellissima casa editrice indipendente che pubblica letteratura per l'infanzia e lo consiglio perché una grande parabola della lotta al potere quello più corrotto malvagio soprattutto da un punto di vista di un bambino come essere ancora puro che però è capace di capire quali sono le storture del mondo e in l'autore è come dicevo è molto famoso in in grecia e anche all'estero finalmente arrivato in italia dove è arrivato finalista al premio 100 lo scorso anno e ha vinto tantissimi premi è stato rappresentato a teatro più e più volte è quello a detta di una mia cliente greca quando lo vide in mezzo agli scaffali è una sorta di dino buzzati della grecia quindi con quell'occhio e quella particolarità che possiamo ritrovare nelle opere per più piccini di buzzati e io sono giorgio della confraternità dell'uva al libreria wine bar di bologna e il nostro nome viene dal romanzo di john fante la confraternità dell'uva appunto perché avendo questa doppia anima di libreria vineria avevamo trovato un'incarnazione perfetta proprio nel romanzo di fante che tra l'altro il mio autore preferito e quindi mi sembrava giusto che è un libro che omaggiare uno dei nostri autori feticci e allo stesso tempo prendere il nome di un libro che parla tantissimo di letteratura e amore per la scrittura e allo stesso tempo parla tanto di vino di emigrazione e quant'altro e mi chiamo giorgio sono un libraio da cinque anni e in passato ho accumulato un po di esperienze in giro per l'italia e per l'europa lavorando in librerie italiane all'estero come piola libri a brussel e le nuvole a barcellona ho fatto carico di belle esperienze ho incontrato tante belle persone e ho portato tutto questo a bologna aprendo insieme al mio socio antonio questa reddoppia realtà ad esattamente il 16 dicembre 2016 vi saluto ciao grazie mille da bologna passiamo a torino e ci sentiamo consigliare il libro di un'autrice che non diremmo che abbia scritto anche per bambini e invece e invece ciao sono davide della libreria therese di torino per questo spazio per chi ha ancora tanto da leggere ho deciso di consigliare un libro uscito da poco che si intitola trick track trio l'ha pubblicato ponti alle grazie e lo ha scritto margaret edford e sì perché forse non tutti sanno che la grande scrittrice canadese così nota per i racconti dell'ancella che abbiamo letto amato visto anche nella serie televisiva in realtà ha scritto anche dei libri per ragazzi e questo è una raccoltina piccola di tre racconti in cui ci sono un po tutte le tematiche care a margaret edford la condizione femminile ma anche l'ambiente e più in generale la capacità dei suoi protagonisti in particolare quelle di questa storia di uscire un po dalla loro comfort zone mettersi in gioco e cercare avventure in giro per il mondo è un libro estremamente divertente e per cui ci sembra particolarmente adatto per questo periodo dell'anno il libro poi è stato scelto dal consorzio delle librerie torinesi indipendenti colti per diventare un po centrale all'interno di un'iniziativa che noi tutti gli anni riproponiamo l'idea è quella di costruire un piccolo lavoro di sensibilizzazione e di finanziamento per delle associazioni che stanno lavorando particolarmente bene quest'anno abbiamo scelto pangea lo abbiamo fatto perché emergenza afghanistan è un progetto importante di cui c'è molto bisogno per il loro lavoro sulle donne afghane e ci sembrava il momento adatto per dedicare una manifestazione a questa grande fondazione onlus che si occupa in maniera così importante di tematiche che ci stanno così a cuore andando in una libreria del consorzio comprando questo libro infatti tre euro vengono donate direttamente a pangea che li userà appunto per i suoi progetti e il libro dicevo si presta si presta perché ha una leggerezza e ha una capacità di divertire ma di farlo raccontando delle storie che sono anche importanti la etwood davvero ha trovato una lingua capace di parlare con i bambini non è una cosa che tutti gli autori sanno fare lei dimostra veramente di avere una adattabilità straordinaria se volete partecipare a questa manifestazione e alla possibilità appunto di dare una mano a pangea dovrete semplicemente recarvi in una delle librerie del consorzio l'elenco lo trovate al sito www.colti.eu o seguendo colti consorzio librerie torinese indipendenti su facebook e su instagram lì troverete tutte le informazioni grazie per esserci stati ad ascoltare e buon natale grazie mille e adesso da torino ci spostiamo non tantissimo ma andiamo sul mare andiamo a imperia ciao sono la libraia natia e lavoro nella libreria sul libro di imperia una bellissima libreria che si trova sotto i portici nel cuore di oniglia lavoro qui dal 2019 insieme ad altri tre libraie bravissime la nostra libreria è una libreria fornitissima che si sviluppa su due piani un'entrata accogliente con una scala che vi conduce a scoprire un secondo piano pieno zeppo di storie adoriamo sentire lo stupore della gente quando salendo le scale scopre che la libreria continua ci sono cose che sappiamo di sapere ci sono cose che sappiamo di non sapere ma c'è anche l'ignoto cioè le cose che non sappiamo di non sapere questa è una citazione da l'ignoto ignoto di mark forsy un piccolo gioiello che descrive in poche pagine quello che per me rappresenta il mestiere del libraio e della nostra filosofia proprio in mezzo a questo ignoto ignoto noi ogni giorno lavoriamo per creare non un negozio ma un luogo accogliente dove sentirsi a casa e incontrare storie e persone e diventare un riferimento per la nostra città come si sente dall'accento non sono ligure sono arrivata in questa splendida terra nel 2010 ma le mie origini sono bresciane e la mia storia da libraia nasce nel 1997 sul lago di zeo all'overe in una piccola libreria fronte lago dal primo istante in cui ho avarcato la soglia mi sono innamorata di questo mestiere io ho capito che non avrei potuto fare altro nella mia vita sono fermamente convinta che leggere sia fondamentale nella vita dell'uomo e che esiste il libro giusto per ognuno di noi basta trovarlo amo portare i libri anche fuori dai luoghi consueti organizzare eventi club di lettura in ogni luogo in cerca di lettore il settore che amo di più è settore dei libri per ragazzi il più emozionante coinvolgente per me per questo motivo oggi vorrei consigliarvi un nuovo libro di alessandro barbaglia scrittore poeta e collega libraio che stimo moltissimo finalista da poco nel premio strega ragazzi 2021 con scacco matto tra le stelle il libro è storie vere al 97 per cento edito da di agostini uscito da pochissimo è una raccolta di storie per l'appunto tutte vere 97 per cento con però 3 per cento di fantasia e pura meraviglia storie divertenti ma soprattutto curiosa che non potete nemmeno immaginare per esempio la storia di agatha christie che ha imbrogliato tutta l'inghilterra creando un giallo proprio sulla sua vita ha pensato un po la regina del giallo che imbroglia tutti oppure la storia dell'uomo che rubò la gioconda ma la mia preferita è la storia di roald dahl è un racconto che ha chiamato ogni storia è la mia storia in questo racconto barbaglia ci prende per mano e racconta come sono nate le storie fantastiche del più bravo degli autori per ragazzi e come tutto era già scritto in ogni cosa mi ha confessato che questa è proprio vera al cento per cento questo libro molto coinvolgente curioso e appassionante è per giovani lettori che devono leggere ancora molto e magari non sono ancora fortissimi lettori è perfetto anche per questo mese di dicembre è più frenetico del solito e anche da leggere ad alta voce durante le feste per convincere qualcuno quanto sia una meravigliosa avventura leggere e concludiamo ahimè momentaneamente il nostro viaggio in un posto bellissimo nelle marche andiamo a matelica in provincia di macerata coraggioso come un topo è un albo illustrato e scritto da nicolò carrozzi per terre di mezzo ed è la storia di un'amicizia ovvero del coraggio che serve a mantenere viva un'amicizia tutto ha inizio in un appartamento dove un topolino inizia a giocare con un pesce rosso che vive all'interno di una piccola boccia di vetro si divertono attraverso i giochi che inventano insieme ma potrebbero divertirsi di più perché quella boccia è appunto un limite al loro stare insieme alla loro amicizia e poi c'è in agguato un pericolo tre grossi gatti neri sono pronti davanti alla boccia e guardano il pesce rosso giocare e muoversi a quel punto il topolino prende una decisione coraggiosa quello di provare a portare in salvo il pesce rosso ci riuscirà e quando ci riuscirà capirà che quel coraggio può essere ancora più ampliato e proverà a mettere davvero e finalmente in salvo il suo amico pesce la morale è che appunto che non è non si è mai troppo piccoli per difendere i più deboli è un albo delizioso e ve lo consigliamo della libreria che industria io sono francesca chiappa che industria è una libreria che ha sede ammatelica nelle marche nel nell'appennino marchigiano ed è una libreria un po strana perché ha anche all'interno la redazione della casa editrice h per cui chi entra nella nostra libreria potrà trovarci anche a volte intenti a impaginare un libro a correggerlo a fare editing dei romanzi in uscita ma ci interromperemo per ovviamente per consigliare libri nuovi in uscita o libri vecchi che abbiamo amato vecchi appunto di catalogo che abbiamo amato che ci piace condividere con i nostri lettori benissimo come vi dicevo quando finiamo le puntate dedicate alle letture per i bambini mi dispiace sempre perché sono dei mondi talmente colorati divertenti e buffi che ci si vorrebbe passeggiare all'infinito e allora un po con con questo spirito io da parte mia vi consiglio di leggere insieme ai vostri bambini un grande classico winnie pooh e voi direte che bisogno c'è di consigliare un classico così famoso e così noto ci arrivavamo da soli è vero però devo dire che winnie pooh ahimè ha subito secondo me una come dire una un trattamento da parte delle divulgazioni essenzialmente da parte della disney che ha tanti meriti e per carità che però l'ha un pochino normalizzato se andate a leggere invece gli originali di royal dahl pubblicati dalla bellissima casa editrice salani è molto probabile che scopriate un mondo ancora più surreale e ingenuo di quello che potreste immaginarvi corredato anche da disegnini deliziosi che sono poi quelli a cui ovviamente la disney si è ispirata ma rendendoli anche quelli un po più commerciali insomma farete secondo me un salto in un mondo molto più naif e divertente buffo strampalato di quanto probabilmente immaginate auguro un ottimo viaggio a voi e ai vostri piccoli compagni d'avventura e spero di ritrovarvi qui a consigliatissimi su intesa san paolo on air grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio